Il posto è un incidente oggi venerdì 27 luglio poco prima delle 16.30 in via San Sebastiano a Castellamonte. Pare, secondo alcune persone presenti sul posto al momento del sinistro, che lo sconto si è avvenuto tra un Citroen Berlingo e un Alfa 159 e che quest'ultima si è fuggita dopo l'impatto. Il Berlingo, condotto da un 52enne di Castellamonte, si è ribaltato in mezzo alla careggiata. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce Rossa, i vigili del fuoco di Ivrea, i carabinieri di Vico Canavese e Castellamonte, il sindaco Pasquale Mazza e il vice sindaco Tedore Medaglia. L'uomo, subito in soccorso, è stato trasportato all'ospedale di Ivrea, ferito ma non in pericolo di vita. Indagini in corso per risalire all'automobilista che è fuggito. Grazie. 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 Grazie.